ciao ti presento amarone della valpollicella di ocg classico biologico domini veneti le origini del vino amarone hanno alle loro spalle una dibattuta storia tra leggenda e realtà e per la cantina sociale di negrara che produce questo vino le vicende si sono svolte così allora intorno agli anni 30 quando presidente della cooperativa era gaetano d'allora durante una degustazione il capo cantiniere adelino lucchese gli fece assaggiare un bicchiere di vino estratto da una botte di reciotto che era stata dimenticata e non travasata per cui il vino all'interno era completamente fermentato gli zuccheri del tradizionale vino reciotto dolce veronese si erano tramutati in alcol e il reciotto stesso era diventato un altro vino il presidente assaggiando l'esclamò questo non è un amaro è un amarone questa volta adelino l'hai proprio indovinata e così nacque questo vino dell'eccellenza della viticultura veronese di cui amarone della valpollicella biologico è l'espressione di come si possono produrre grandi vini partendo da vigneti a tenuta biologica dove l'innerbimento del vigneto e l'utilizzo di concimi naturali rendono possibile l'agricoltura a impatto ambientale vero è ottenuto da uve corvina corvinone e rondinella provenienti appunto dai vigneti nel cuore della valpollicella classica con vendemme rigorosamente manuale tra fine settembre e la prima decada di ottobre quando le uve si presentano in perfetto stato di maturazione e possono così essere lasciate a passire in locali particolari denominati fruttai fino a fine dicembre e gennaio la pigiatura quindi avviene intorno a febbraio e si procede con una lenta macerazione che può portarsi fino a oltre 30 giorni per estrarre il maggior quantitativo di sostanze polifenoliche dalle bucce come ad esempio il resveratrolo che ha capacità antiossidanti e antiinfiammatorie ed è presente nei vini rossi successivamente questo vino affina in botti di rovere di slavonia per almeno 24 mesi prima di essere imbottigliato affinare ancora 6-8 mesi e successivamente commercializzato appena versato nel bicchiere noterai un bel colore rosso granato compatto al naso ha un profumo molto intenso e persistente che richiama le amarene sotto spirito la prugna secca e le spezie in bocca è molto morbido con un'ottima struttura ben bilanciata dai tannini vellutati è ideale in abbinamento a secondi piatti ben strutturati a base di selvaggina a carni alla braccia a brasati e anche a formaggi stagionati è il vino ideale da sappare nelle occasioni importanti se vuoi utilizzarlo per un regalo o se sei curioso di assaggiarlo clicca sul bottone acquista e lo riceverai comodamente a casa tua io e amarone biologico ti ringraziamo e ti salutiamo ciao grazie